La simbolica tessera numero uno è di Francesco, 82 anni, addirittura in anticipo sui tempi ufficiali. In realtà il Piacentino dovrà aspettare il 14 ottobre, ma stamattina si è già presentato allo sportello con i documenti necessari. Non gli è stata rilasciata, deve attendere qualche giorno. Si apre infatti venerdì prossimo la possibilità per gli ultra settantenni di richiedere l'abbonamento gratuito per il trasporto pubblico in città. Chiediamo alle persone di essere responsabili e quindi di fare domanda perché effettivamente utilizzano il bus. Abbiamo fatto una scelta che è stata quella di non mandare direttamente a casa alle persone, ma di chiedere a chi ha intenzione di utilizzarla di venire qui e farne richiesta. Una misura contestata dal centrodestra perché non tiene conto del reddito degli ultra settantenni, ma concede la gratuità a tutti. Il sindaco replica. Non è una questione solo sociale, ma è una questione anche ambientale. Quindi abbiamo voluto coniugare il tema ambiente, infatti sul cartello alle mie spalle c'è scritto non inquino, scelgo il bus. Dal 14 ottobre è dunque possibile richiedere l'abbonamento gratuito per i bus urbani riservato alle persone residenti a Piacenza che hanno già compiuto i 70 anni di età e non sono in possesso di un abbonamento in corso di validità. La domanda va presentata alla biglietteria di seta in via Colombo 3, nella zona della Lupa, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. I cittadini interessati devono prima compilare il modulo di richiesta disponibile alla biglietteria di seta o sul sito del comune di Piacenza e presentare poi un documento di identità, il codice fiscale, una fotografia formato tessera e 5 euro per l'emissione della tessera Mi Muovo. L'abbonamento gratuito dura un anno e va timbrato in ogni corsa.